Le malattie dell'apparato intestinale rappresentano la prima causa in Italia di ospedalizzazione e incidono fortemente sul sistema sanitario nazionale. La campagna non fa eccezione, per questo motivo la prevenzione in patologie come ad esempio il carcinoma del colon retto, 52.000 diagnosi nel paese, seconda causa assoluta di tumore, rappresenta uno strumento particolarmente importante sia dal punto di vista della salute che per il valore incidente in termini economici sul bilancio della sanità regionale. Il dato emerge dal convegno a novità diagnostiche in tema di carcinoma del colon, evento ECM organizzato da Health in Progress, come conferma il presidente regionale dell'Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri Ernesto Klar. Anche in campagna le malattie dell'apparato digerente rappresentano la prima causa di ospedalizzazione. Attraverso lo screening e in questa circostanza dello screening colorettale possiamo ottimizzare le risorse e test quali il ColoGuard sembrano affidabili a garantire una maggiore efficacia dei nostri sistemi. Nel corso dei lavori è stato presentato un nuovo test genetico sulle feci che potrebbe rivoluzionare lo screening e per la prima volta i medici hanno potuto vederlo in Italia. Semplice ed efficace consente la diagnosi addirittura a casa evitando la fastidiosa colonoscopia. Mauro Scimia, direttore business regionale in Italia, Ediberia di Exact Science ne illustra le caratteristiche. La novità è quella di aver sviluppato un test non invasivo che si può eseguire nella comodità della propria abitazione dal punto di vista del preliero che ha un'accuratezza molto vicina al metodo di riferimento che è la colonoscopia. Carlo Varelli, responsabile della diagnostica per immagini dell'Istituto Varelli, sottolinea l'importanza dell'iniziativa. Stamattina trattiamo un tema importante, quello del carcinoma del colon. Come siamo soliti fare, affrontiamo da un punto di vista di tutti quelli che sono gli aggiornamenti sulle più avanzate tecniche diagnostiche. Oggi in particolare vedremo un nuovo test molecolare che ha in maniera del tutto non invasiva una sensibilità e una specificità altissima nella detezione del carcinoma del colon. È un nuovo test che vedremo come e con che tempi cambierà la diagnostica e lo screening del carcinoma del colon, ripeto, in maniera del tutto non invasiva. È la prima volta che si vede a Napoli? Sì, è un test che arriva da poco, un test americano che abbiamo in esclusiva da pochissimo e che oggi entra nella platica clinica quotidiana.